Quando partirà Garanzia Giovani? Ma soprattutto se i soldi ci sono. Proprio la settimana scorsa con il Ministero abbiamo concordato la rimodulazione e abbiamo recuperato 20 milioni dei 30 milioni mancanti. Prevediamo tra maggio a massimo metà giugno di poter ultimare il programma di rimodulazione. Solo allora e avendo calcolato e verificato gli effetti occupazionali di Garanzia Giovani riprogrammeremo la nuova misura che verosimilmente potrà arrivare dopo l'estate. Dove ci sarà sicuramente un cambiamento drastico nel senso che metteremo in coinvolgimento maggiore delle aziende con una maggiore responsabilizzazione quindi le aziende dovranno in parte seppur minima cofinanziare questo tirocinio formativo ma soprattutto mireremo all'aumento del bonus occupazionale post tirocinio in modo da dare al ragazzo che si forma un vero bonus, un vero valore che potrà portarsi dietro e agevolare le aziende che li assumono. Invece in riferimento anche alle altre azioni che dovrebbero partire e ci riferiamo soprattutto all'autoimprenditorialità. Che novità abbiamo? Sono due bandi, la ricollocazione e l'autoimprenditorialità che pensiamo possono essere già operative entro questo mese di maggio. Quindi immagino comunque prima dell'estate che la coda della vecchia programmazione e tutta la nuova programmazione europea che ricordo sono quasi 200 milioni di euro o con delle caratteristiche di finalità specifiche che potrebbero guardare con molta attenzione a territori come il nostro, Gela in particolare per la crisi complessa del sistema che sta attraversando può darci molto aiuto. Ma in termini molto più pratici, l'assessorato al lavoro, la regione siciliana, come sta intervenendo proprio per quanto riguarda il tessuto sociale economico gelese già colpito da una crisi senza precedenti? Guarda, non meno di 20 giorni fa abbiamo raggiunto un accordo storico, penso, per la Sicilia firmando con i sindacati la destinazione specifica di una parte della cassa integrazione intera che è il 5% in particolare che è la dotazione della regione alle aree di crisi complesse siciliane che voglio ricordare sono soltanto due, Termini Milese e soprattutto Gela. In questi giorni stiamo trattando insieme ai sindacati e a tutte le parti sociali per aumentare questa dotazione in modo da assicurare a tutti i lavoratori quando gli è dovuto in via del tutto, come dire, straordinario ed eccezionale. E poi tutta questa nuova programmazione delle politiche attive del lavoro perché parliamo di persone, nella maggior parte dei casi, che non hanno bisogno soltanto della cassa integrazione o comunque delle politiche passive perché parliamo di aziende che magari poi non esistono più o non ripartiranno. Dobbiamo incentivare invece le politiche attive, c'è l'autoimprenditorialità, la ricollocazione, strumenti per quei soggetti che non sono giovani ma che hanno anzi un'età media molto alta. Immagino le centinaia di lavoratori o ultra 50 anni che hanno perso il lavoro e hanno perso anche l'azienda che non ce l'hanno più di dargli un'opportunità in più rispetto agli altri. E questo lo stiamo facendo.